Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti coniglietto. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono fregola di patate, farina di tipo 00, burro, aroma di mandorle, zucchero, uovo, vanillina bimbi, sale, gocce di cioccolato e scorza d'arancia. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza d'arancia. Ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina di tipo 00, la fecola di patate, l'uovo, il burro, un pizzico di sale, la vanillina bimbi e qualche goccia di aroma di mandorle. Ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Il composto è pronto, formiamo un panetto, avvolgiamolo nella pellicola trasparente e riponiamo in frigo per 30 minuti. Abbiamo ripreso la nostra frolla dal frigo, adesso la stenderemo tra due fogli di carta da forno. Faremo uno spessore di circa mezzo centimetro. Abbiamo steso la frolla, adesso con uno stampo a forma di cuore formeremo i nostri coniglietti. Con un coltello tagliamo in due questo cuoricino, togliamo le parti finali e così abbiamo formato le orecchie del coniglietto. Adesso con uno stuzzicadenti andiamo a fare dei piccoli buchi. Prendiamo le gocce di cioccolato e faremo gli occhietti. e con il triangolino che abbiamo tolto andiamo a fare il nasino. E continuiamo così per tutto il resto del composto. Una volta formati tutti i nostri biscotti, li abbiamo posizionati su una teglia ripestita con carta da forno. Adesso li andremo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di rimuoverli dalla teglia. Biscotti coniglietto. Grazie e alla prossima ricetta. Biscotti coniglietto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.